In vista del ferragosto, il prefetto Daniela Lupo ha voluto far visita alle forze dell'ordine che oggi e soprattutto domani saranno impegnate a vegliare sulla sicurezza dei cittadini. Come sempre, carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco, al pari degli operatori del soccorso, garantiranno un servizio extra, proprio in virtù del maggior afflusso previsto sulle nostre strade e nelle nostre località. Ma al centro dell'attenzione in questo periodo c'è anche il rispetto delle regole legate al rischio di contagio da Covid. E' chiaro che i controlli da soli non bastano, ce lo siamo detti tante volte, bisogna raccogliere l'invito della sanità e in particolare anche della nostra sanità e quindi creare una collaborazione virtuosa tra quello che è il cittadino, l'operatore e le forze dell'ordine. Il prefetto Lupo ha ribadito i due punti su cui si stanno muovendo le forze dell'ordine piacentine, ad esempio in tema di Green Pass. Controlli incessanti, ma anche grande disponibilità nei confronti di cittadini ed esercenti. Su questo territorio c'è stata una grande collaborazione per i controlli Covid, proseguono incessanti su tutti i luoghi laddove si formi aggregazione perché non sono previsti. Per quanto riguarda il Green Pass è uno strumento, come ci siamo detti, messo a disposizione della collettività per contenere un rischio di diffusione. I controlli saranno operati con il buon senso e con quel garbo che hanno contraddistinto l'attività di prevenzione e controllo sul territorio. Tanto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viale Beverora quanto in Questura al Prefetto sono state inoltre mostrate le apparecchiature tecnologiche in dotazione agli operatori. Grazie a tutti.